Benedizione delle mamme in attesa preseduta da Monsignore Corrado Lorefici, arcivescovo di Palermo e dal vescovo di Piazza Merina, Monsignore Rosario Gisana, ieri nella chiesa Sant'Agostino di Gela in occasione della festa della Madonna del Parto. L'animazione della celebrazione eucaristica è stata affidata al CAV, Centro di Aiuto alla Vita e al Coro Cor Unum. Voi da anni proclamate l'importanza della vita, tutta la vostra attività è un inno alla nascita. Assolutamente, noi proclamiamo questo, l'importanza che ha un periodo così dominante nella vita di una donna che è quella di portare alla luce una vita, la vita del proprio bambino. Il CAV offre un supporto molto importante anche a tutte quelle donne che non hanno la forza di affrontare una gravidanza e spesso sono anche tentate dalla voglia di interrompere. Sì, questo capita in questo percorso della donna perché si attraverso un periodo di grande fragilità. Non sempre la gravidanza è accompagnata da grande forza, anche di spirito per poter affrontare comunque tutta l'importanza che richiede la nascita di un figlio. E in determinate condizioni questo può sembrare ancora più pesante. Ecco che la nostra associazione dice solo questo, si presenta proprio a ogni donna, ad ogni mamma che attraversa questo periodo di affrontarlo con un sostegno, con qualcuno che ti sta vicino, che ti ascolta, che ti supporta, che ti accompagna, come facciamo oggi, che accompagniamo le nostre prossime mamme e che chiedono soltanto di essere semplicemente benedette durante questa celebrazione. Il CAV infatti vuole essere proprio questo, quasi l'eco di questo rintocco di campane, un eco di un inno alla vita. Ieri erano presenti i soci della Sorop di Ministro di Gela che nel 2012 hanno fatto restaurare l'antica immagine. Noi siamo venute in questa chiesa ad offrire il restauro di un quadro, di una statua. Padre Sassetta dopo pochi minuti scese con questo meraviglioso quadro che era rovinato dal tempo, presentava delle lacerazioni. Ce l'ho affidato con grande fiducia e noi lo abbiamo dato nelle mani della nostra socia Maria Grazia Vitale che lo ha restaurato con grande professionalità e dedizione, restituendogli l'antica bellezza. Questo quadro oggi è qui, esposto all'altare. Per noi questo è un momento di profonda gioia. Ci piace essere coinvolte in questa festa perché è un po' la festa del Soroptimist in quanto siamo riusciti a donare a questa chiesa un quadro bellissimo, antico e molto simbolico. Sabato e domenica prossimi, presso la chiesa di Sant'Agostino, arriveranno dal santuario di Cascia le reliquie di Santa Rita. Il reliquiario in quest'anno giubilare sta visitando tutte le chiese nel mondo dove si venera la santa dei casi impossibili.